Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. L'argomento di oggi è la Tasi, Tassa sui servizi indivisibili. Questa imposta è stata introdotta nel 2014 e fa parte di quelle che sono le imposte previste per la IUC, la nuova imposta unificata comunale. I soggetti destinatari di questa imposta sono tutti quei soggetti che detengono a qualsiasi titolo fabbricati, i ricompresi all'abitazione principale e le aree scomperte, quelle edificabili, detenute a qualsiasi uso di vite. L'imposta si determina dalla rendita catastale con la rivalutazione del 5%, un metodo già noto perché è quello con cui calcolavamo l'IMU. Poi l'imposta basi pari all'1 per 1000 e la massima pari al 10.6 per 1000, quindi il range per il calcolo della Tasi è dal minimo dell'1 a un massimo del 10.6 per 1000, tenendo presente che i comuni hanno chiesto un'applicazione di maggiorazione dell'1 per 1000. Il comune, chiaramente, che è il soggetto destinatario, poi farà la sua delibera nella quale andrà a determinare l'imposta, che però per il 2014 non potrà essere superiore al 2.5 per 1000, tenendo presente la richiesta che era stata fatta, si andrebbe al 3.5 per 1000. Quindi, mediamente, nella stampa specializzata, i calcoli vengono fatti con l'aliquota del 3.3 per 1000. L'occupante persa dell'immobile verso la Tasi, quindi non è un'imposta che andrà solamente a carico del proprietario dell'immobile, ma anche degli utilizzatori e, chiaramente, che occupano l'immobile. Quanto pagherà della Tasi? Dell'importo complessivo l'occupante dovrà pagare dal 10 al 30% dell'importo complessivamente determinato con il calcolo della Tasi. Come avverrà il versamento? A differenza che, per quanto riguarda l'Imo, il versamento avverrà con i sistemi elettronici bancari o con i bollettini contocorrenti e postale. Quindi, non più con il versamento dell'F24, ma bensì l'utilizzo di Riva, RID, MAV e i bollettini cosiddette freccia. Questo, chiaramente, comporterà che chi è scassamente informatizzato farà difficoltà a pagare agevolmente da casa l'imposta dovrà recarsi per forza agli sportelli bancari e postali. Il versamento. Quando verrà versata la Tasi? La Tasi verrà versata con un minimo di due soluzioni, con una scadenza temporale di sei mesi dall'una all'altra. Questo, per quanto prevede la normativa. Però il Comune potrebbe rattezzare l'imposta in soluzioni più grandi, quindi fare più rate durante l'anno. È ammessa anche il pagamento in unica soluzione con la scadenza preconfezionata del 16 giugno. Sono due tipologie di agevolazioni che il legislatore potrebbe attuare. Uno è legato al profilo di bassi redditi, un altro è legato al profilo relativo alle famiglie con tanti figli. E quindi ci si trova nell'imbarazzo di dover capire chi sono i soggetti fruttori di questa agevolazione, se per esempio sono gli utilizzatori e quindi dovranno dire loro o calcolarsi loro con queste agevolazioni oppure dovranno passare il dato ai proprietari immobiliari che nella determinazione dell'imposta e nella richiesta della quota a carico degli utilizzatori considerano le agevolazioni spettanti. Questo è uno dei punti in cui la normativa dovrà essere maggiormente chiarita. Abbiamo provato, su indicazioni anche di alcuni quotidiani, a fare dei calcoli relativamente alle province che sono vicine alla nostra ufficio e queste sono Treviso, Venezia e Padova. Mediante questi calcoli ci siamo accorti che ci sono due aree macroeconomiche. Una per quegli immobili che sono considerati immobili fino a 70.000 euro di valore, quindi monolocali o dilocali. L'altra per quegli immobili più grandi, con le billette o le case di caschiera, non di lusso considerate nella classifica degli A7. Nel caso, per esempio, di Treviso, la categoria 1, chiamiamola gli immobili fino a massimo 70.000 euro, produceva un IMU nel 2013 pari a zero, quindi non era soggetta all'imposta, mentre col calcolo della tasi al 3.3 per mille, la tasi è stata calcolata a 166 euro. Nella categoria 2, invece, quindi le billette categoria A7, l'IMU nel 2013 era a 285 euro, mentre la tasi al 3.3 per mille è pari a 400 euro. Tutto questo genera che nel primo caso, cioè la categoria 1, ha avuto un incremento di 166 euro. Nel secondo caso, cioè la billetta, l'incremento è di 115 euro. Fra la categoria 1 e la categoria 2, fra la casa da 70.000 euro e la billetta, la casa da 70.000 euro paga 51 euro in più, quindi sostanzialmente paga 30.70% in più rispetto alla casa più grande. Questo è un grande problema che si genera in questo tipo di imposta, perché l'abbiamo analizzato anche negli altri due comuni e Venezia dal 56.70%, mentre Padova dal 57.40%. Quindi sostanzialmente la tasi è molto iniqua rispetto a quelle che sono le case piccole, perché pagano di più rispetto alle case più grandi. E questo incontro tendenza rispetto a quanto dicono gli amministratori comunali, ad esempio le ultime dichiarazioni dell'amministratore dell'ufficio Tributi del Comune di Padova, che sosteneva che invece a Padova non c'erano aumenti di questa natura, ma la imposta era a carattere ordinario. Vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata. Questa è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.